La riforma della tariffa domestica va proprio nella direzione di promuovere l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili attraverso la rimozione della progressività, che è una cosa ormai antistorica, obsoleta, frutto figlio dello shock petrolifero degli anni 70 e quindi credo sia avvenuto il momento di portarci anche noi in un mondo moderno in cui la progressività tariffaria non c'è più e l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nel vettore elettrico possono essere conseguite.